Se i bambini dell'infanzia e della prima e seconda elementare di Avellino lunedì torneranno in classe non è dato ancora sapere. Dopo la sentenza del Tarra manca ancora una comunicazione ufficiale da parte del sindaco Festa. Ieri per l'amministrazione comunale è stata una giornata intensa durante la quale si sono valutate le varie soluzioni anche attraverso un fitto scambio di contatti tra il primo cittadino e di vari dirigenti scolastici. Per quanto riguarda le famiglie il fronte resta spaccato. Da una parte i genitori che hanno accolto in maniera favorevole il pronunciamento del Tarra dall'altra coloro che sono convinti che a scuola si dovrà tornare dopo l'epifania e questa sembra essere l'opinione della maggior parte dei genitori. Intanto si è insediato il tavolo in prefettura per organizzare il rientro a scuola a gennaio. A confrontarsi i sindaci di Avellino, Mercogliano, Solofra, Diano, Montoro, Lair, l'ufficio scolastico provinciale, il consigliere regionale Cascune, Lanci e la provincia. Al termine dei lavori è emersa la necessità di dover acquisire i dati sulla popolazione scolastica per stabilire quanti sono gli studenti pendolari. Al tavolo sono emerse due esigenze in particolare, più corse per i trasporti pubblici e differenzazione degli orari delle varie scuole. Quello di ieri è stato il primo confronto al quale ne seguirà un altro nei prossimi giorni, del resto non c'è molto tempo. Al 7 gennaio mancano quattro settimane alle quali bisogna sottrarre i giorni di festa e le domeniche. Restano 16 giorni per trovare la soluzione ad un problema che va avanti da Messi.